Tragedia da Cibonaccorsi in provincia di Catania, dove il cadavere di Angela Cantarella, 76 anni, è stato ritrovato lo scorso lunedì dal nipote del pollaio di casa. Non si avevano sue notizie da due giorni. La donna, che inizialmente si pensava fosse morta per cause naturali, sarebbe stata invece strangolata da un romeno di 26 anni, suo collaboratore. Alla base del gesto, forse la scoperta da parte della vittima di un furto commesso dal giovane, che proprio ieri, al termine di un lungo interrogatorio, è stato arrestato. I particolari saranno resi noti domani nel corso di una conferenza stampa in procura.